Qual è la differenza tra un animale e una pianta? La differenza sostanziale tra animali e piante sta nel fatto che le piante si fabbricano da sole il proprio alimento mentre gli animali per vivere dipendono tutti direttamente o indirettamente dalle piante inoltre queste non si muovono a differenza della gran parte degli animali